L'agricoltura è il settore più resiliente dell'economia italiana. Per effetto dell'emergenza Covid, nei primi dieci mesi dell'anno crescono solo le esportazioni legate all'agroalimentare. Mentre il commercio con l'estero registra una flessione di 12 punti percentuali, un'analisi col diretti indica l'export di prodotti agricoli in crescita dell'1% rispetto al 2019. In affanno gli altri settori simbolo del Made in Italy, come Tessile, in calo del 20,8% e Automotive, fermo a meno 16,4 punti. Il 2020 si chiude con un balzo delle quotazioni internazionali dei principali prodotti agricoli. In controtendenza alle difficoltà dell'economia globale, nell'anno della pandemia la corsa ai beni essenziali ha fatto lievitare il costo delle materie prime. Più 14,6% il prezzo del grano, più 24,8% il mais, più 37,2% la soia. Dati elaborati sul valore dei contratti future venduti alla chiusura annuale del Chicago Bond of Trade.